bella a tutti i fourniters benvenuti e bentrovati su LeonTube in questo video andiamo a fare l'incarico danneggia gli avversari con la pistola a focile o percorri una distanza dalla sua respinta la pistola a focile la troviamo qui, qui o anche qui ci sono i personaggi che la vendono ce n'è anche un altro, mi sembra sia da queste parti adesso noi andiamo a questa parte qua quindi è facile andarla a trovarla e mi raccomando dovrò sempre avere oro a disposizione per comprarla dal personaggio e intanto ovviamente andiamo a fare anche l'incarico parla con un personaggio prima di subire danno eccoci qui che arriviamo quindi parliamo subito con il personaggio allora questa parlare con il personaggio è già fatta ecco la pistola a focile costa soltanto 100 ne compriamo un po' ok ne compriamo 3 giusto per avere i colpi e l'equipaggiamo forse troviamo anche qualche colpi di più sì direi quindi bastava prenderne anche una ci facciamo anche lo scudo ragazzi e volevo provare allora la distanza percorsa sarebbe questa qua andiamo ok no ok no non mi fa sparare allora vediamo invece se volevo provare a sparare al volo ma non è quella la tecnica giusta ok quindi i metri che facciamo all'indietro ma sono soltanto 12 ma noi li andiamo a fare qua guardate nel cerchio in questo modo lo facciamo molto più semplice che andare a a colpire un avversario possiamo fare anche quello ovviamente già così ne abbiamo fatti 30 ma ora noi andiamo qua ci mettiamo all'indietro vediamo un po' occhio eh è pronta e così ne facciamo molti di più adesso ci rimettiamo da quest'altro lato la facciamo al rovescio vi faccio vedere il punto della mappa in cui siamo è questo qui ci sono diversi cerchi ok carica ok siamo a 180 quindi andiamo avanti in questo modo abbastanza veloce 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 continuiamo ancora ragazzi avete capito come fare quindi dove trovarla buono qui ci stanno anche sparando noi ci interessa il giusto perché stiamo facendo solo la nostra missione quindi ragazzi che dire se ok adesso sbagliate il tempismo sono andato troppo indietro comunque se il video ragazzi vi è piaciuto vi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e non dimenticate di continuare a seguirci e ci vediamo presto con altri video ora qui la portiamo a termine prima che ci termini lui andiamo a fare anche un po' di scudo praticamente dovrebbero mancare due colpi e anche questa l'ho sbagliata va bene lo stesso questa l'abbiamo fatta e andiamo a fare l'ultimo colpo e abbiamo completato l'incarico e ragazzi ci vediamo presto con altri video ora andiamo a far vedere se riusciamo a killare quel tipo la preso quindi abbiamo fatto anche il secondo incarico e l'abbiamo anche eliminato il secondo incarico che era ok questo fatto danneggia gli avversari con la pista dell'officio lo percorri fatto e perfetto ci vediamo presto con altri video ciao a tutti